ciao ragazze e benvenute nel mio canale oggi andremo a provare le famose tip che vi avevo fatto vedere nel video precedente e quindi le andremo a provare insieme per la prima volta allora ragazze eccoci qua per provare queste tip ho già preparato la mia unghietta ho applicato già preparatori e vado ad applicare la base gel non so se qualcuna di voi ha già provato queste tip queste famose tip che comunque hanno questa sorta di bombatura se l'avete già provate fatemi sapere se fate questi stessi passaggi io applico appunto uno strato di base gel la polimerizzo e ho già preso la mia tip l'ho già bufferizzata al suo interno per comunque farla aderire alla mia unghia e andrò ad utilizzare una base rubber l'applico in prima in modo sottile per bene su dove andrà appunto ad appoggiare sulla mia unghia poi ne prendo una piccola quantità anche perché questo prodotto dovrà andarsi a depositare sulla su quella su quella bombatura che comunque poi dovrà andare sul sul comunque dovrà resistere sulla mia unghia allora ragazzi io qui ho sbagliato perché praticamente avrei dovuto utilizzare quella lampada diciamo portatile però è la prima volta e comunque dico la prossima volta andrà meglio in quanto la tip ragazze non deve comunque sollevarsi dall'unghia perché questo provoca può provocare quindi un un bolladario e quindi far sollevare la tip nei giorni seguenti e comunque dico a dove averla polimerizzata io faccio circa 90 secondi la taglio perché comunque è molto lunga e io ho preso una coffin se non sbaglio però sono troppo lunghe e quindi niente l'ho tagliata e adesso vado con a topacizzare questa tip e a rimuovere quegli eventuali residui di prodotto che sono fuoriusciti quando io ho poggiato la tip e un'altra cosa molto importante ragazze dosate bene il prodotto perché occorre il giusto se ne mettete troppo fuoriesce dalla tip nel momento in cui la poggiate sull'unghia comunque il prodotto in eccesso c'è seccante poi a rimuoverlo e un'altra cosa ragazze prendete bene la misura della tip che andrà sul vostro dito sulla vostra unghia perché devono comunque combaciare i laterali fatto questo ragazze appunto ho dato una leggera opacizzazione della tip potete farlo anche con un buffer e non opacizzate troppo perché dico ripeto sono tip in gel quindi sono molto delicate e ho eliminato i residui di polvere e adesso vado a stendermi il colore perché appunto queste tip hanno già una una struttura di suo e quindi ci basterà solo stendere il colore sto utilizzando questo colore di la fame il numero che non mi ricordo se vi interessa vi posso lasciare ve lo lascio giù scritto nell'info box e ne approfitto per ricordarvi ragazze che vi aspetto anche sul mio gruppo facebook nails in the world vi lascio naturalmente i link giù nell'info box e mi raccomando ragazze se avete domande io sono a vostra disposizione e fatemi sapere se anche voi l'avete già provate queste tip e se fate gli stessi passaggi e i prodotti che utilizzate sto facendo la seconda passata di colore e devo dire che veramente per essere la prima volta ragazze mi mi son trovata bene comunque è un un metodo che mi fa risparmiare notevole tempo di sicuro e comunque ancora oggi questa tip regge nonostante sia entra d'aria regge e sto sigillando e ragazze vi aspetto al prossimo tutorial e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ciao 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 ciao